eccoci eccoci come state un saluto a tutti vi ricordo come sempre di commentare numerosi di lasciare un bel like e iscrivetevi da questa parte attivate la campanella numerosissimi parliamo di milan di mercato milan in uscite in questo caso perché attenzione la situazione di fikaio tomori è da seguire e da monitorare questa stagione lui secondo me ha fatto una prima parte molto buona ha chiuso sta chiudendo molto male con troppi errori poca concentrazione la sensazione da quello che arriva è che qualcosa sia cambiato tra lui e il milan e ricordiamo tutti un paio di mesi fa l'intervista del suo agente che aveva detto non lascerà il milan in un momento delicato perché in quel momento era in i primi le primissime ore dell'indagine però è chiaro che avrà mercato quest'estate ebbene attenzione perché il milan potrebbe cedere tomori la prossima estate a me dispiacerebbe lo dico sinceramente perché di tutti i difensori secondo me è quello più forte l'idea secondo me che tomori lo devi confermare e devi magari rigenerarlo con un nuovo allenatore però la sensazione che qualcosa si sia inclinato tra il milan e tomori e la notizia è che tomori sarebbe un'offerta soddisfacente davvero parte può essere il sacrificio per arrivare magari a un difensore che il milan insegue da tempo buongiorno può essere però ecco mi stupisce che in questo momento ecco tomori nonostante la seconda parte di stagione deludente si è ritenuto tra i partenti tra i probabili o possibili partenti poi vedremo su tomori si fa fatica a dare un giudizio secondo me tomori è forte però ha bisogno di più concentrazione a volte commette delle ingenuità entra il ruento rigore che va provocato contro il genoa ridicolo dopo tre minuti poi salta la partita successiva o meglio va in panchina poi entra e fa comunque male vediamo cosa succede ricordiamo che tomori è stato preso dalla precedente dirigenza e come spesso accade una nuova dirigenza piano piano toglie tutti i tasselli della scorsa dirigenza voi su tomori che idea vi siete fatti secondo me sarebbe una partenza comunque dolorosa nonostante tutto e potrebbe davvero partire commentate lascia tu like iscrivetevi e ditemi che ne pensate un abbraccio